Come è andata la serata vicina? Mi serve una lapdance al tavolo 5, non ti avvicinare troppo. Il tipo puzza di pisciogli asparagi ha una mano a un cino. Tu non sei un vicino, sei uno spacciatore. David Clark! Ho una piccola partita di marijuana giù in Messico. Tu portamela qui per domenica sera e io ti pagherò 100.000 dollari. È fuori dal mio giro. Non hai scelta? Ma che diavolo è? Ho comprato un'orca, ho parecchi soldi. È facile che al confine ti perquisiscano, potresti travestirti. Come Bane, quello di Batman, tipo... Non c'è droga qui, potete risparmiarvi di cercarla. Ti va di guadagnare 10 verdoni? Traffico di droga? Non è traffico di droga, è contrabbando. Io che attraverso il confine da solo, bandierò una rossa. Ma le famiglie... Salve! ...neanche le guardano. Quindi tu dovrai fare mia moglie. Ho ingaggiato quello che vive nel mio palazzo. E una tappistella da strada. Kenny, tua sorella. Ho sempre voluto una sorella. Voglio mi di dosso le zompe. Dovremmo sembrare una tipica perfetta famigliola americana. Ha una bellissima famiglia. Ah, la ringrazio molto. Non c'è provare. Scusa. Oh, va. Devo ritirare una piccola partita di erba. E sarebbe una piccola partita. Ho caricato abbastanza erba da stendere Bob Marley per sempre. La conoscia di stamorre quando... Fa parte del piano. Dividerete il campeggio con i Fitzgerald stanotte. Quando sarete sposati da quanto lo siamo noi, cercherete anche voi un po' di pepe. Non ho mai toccato un'altra donna prima. Io non ho niente in contrario. Apriamo le danze. Oh, sì. Diamoci dentro. Mi piace la vostra famiglia. A me sembra... È un cetriolo. Sono interessanti. È grosso, nero e un pene. È uno skateboard. Uno skateboard, certo. Sì, è vero. Un grosso skateboard nero. Ci hanno sparato addosso. Vai, vai! Kenny è stato morso da una tarantola. Porca vacca, fa un male cane, oddio. Fammi vedere. Non se ne parla. Fermati e tira giù i pantaloni. Tutti ne abbiamo già visto uno. Ne abbiamo... Com'è messo? Non lo vedo. Porca puttana. Non è tanto grave. Ma guarda che roba. Non lo guardo di nuovo. Sta bene. Sentito, sta bene. Abbiamo derubato un trafficante internazionale. Ora vi faccio fuori, tutta la famiglia. Ma noi non siamo una vera famiglia. Mia moglie è una spogliarellista. Ok, dimostra. Un po' di rispetto. È tua madre. Non penso che tu sappia pensare. Ti rilassi? Mettiamo un po' di musica. Non è un po' di musica. Non è un po' di musica.